Come capire se sei fuori forma? Ciao, sono Luca Dallavalle, Health Performance Coach e dal 2004 studio ed elaboro strategie altamente personalizzate perché ogni persona possa sentirsi forte e vitale ad ogni età. Allora, è abbastanza chiaro che la popolazione può essere divisa tra chi è in forma e chi non lo è e oltretutto è altrettanto chiaro che a tutti piace essere in forma ma per molti il concetto di cosa significhi essere in forma è del tutto astratto e infatti nelle mie consulenze mi capita di frequente di trovare persone che non sono nemmeno consapevoli di essere fuori forma Ecco perché ho deciso di fare questo video e individuare assieme a te quelli che sono alcuni dei segnali che ti facciano capire a che livello è la tua forma fisica Il primo segnale comune a moltissime persone è quello di essere sempre stanchi Se sei sempre stanco significa che il carico di lavoro esterno o meglio il carico di lavoro percepito dal tuo corpo è superiore a quelle che sono le tue capacità di recupero e quindi piano piano non riuscendo mai a recuperare appieno si accumula quella che è la sensazione di fatica che ti accompagna già da appena sveglio e diciamo che oltre a non essere per nulla piacevole limita poi anche quella che è la nostra sfera d'azione quotidiana Ma soprattutto questo non è normale che accada poiché se sei in forma dopo uno sforzo riesci a recuperare anche velocemente quelle che sono le tue energie Un altro segnale è quello che io definisco avere il fiato corto Se diciamo quando fai qualche passo più veloce del solito magari per fermare qualcuno oppure se devi fare una rampa di scale e arrivi in cima o addirittura ti devi fermare prima perché hai quella sensazione di mancanza d'aria o di sentirti diciamo il cuore in gola beh devo dirti che questo non è per nulla normale e quindi non puoi considerarti una forma fisica adeguata Anche avere ad esempio frequenti dolori muscolari oppure sentirti rigido quando fai qualche movimento diverso dal solito non indica di certo che la tua forma fisica è al top Se ad esempio dopo aver caricato una valicia pesante senti la tua schiena indolenzita oppure se devi allungarti ad esempio per prendere qualcosa ma arrivato ad un certo punto senti come se il tuo corpo fosse teso come una corda di violino e questo ti impedisce di andare oltre significa che la tua muscolatura non è sufficientemente forte e nemmeno flessibile e questa perdita di funzionalità credimi aumenta anno dopo anno riducendo progressivamente quindi anche la tua forma fisica Aver aumentato quello che è il tuo peso negli anni e quindi essere ingrassato oppure avere la pancia che ti intralcia in tutto quello che fai non è così normale come si vuole far credere Anche questi sono segnali che stai andando fuori forma e che per stare bene dovresti invertire la rotta anziché diciamo lasciarti andare e credere che per forza deve essere così La lista potrebbe continuare a lungo ma dalla mia esperienza questi sono i segnali principali con i quali ognuno di noi può confrontarsi per capire qual è il suo stato di forma E se capisci di essere fuori forma il mio consiglio è quello di diciamo non cercare di rimediare in poco tempo Spesso infatti il fatto di essere fuori forma deriva da anni di comportamenti sbagliati che non si correggono certo in un paio di settimane Dovrai mettere in conto che farai fatica, che non sarà per nulla facile che ti servirà tempo e soprattutto che dovrai essere costante perché sono i piccoli passi quotidiani che ti permettono di ottenere grandi risultati nel tempo e in particolare per quanto riguarda la forma fisica che è certamente importante ritrovarla ma lo è ancora di più riuscire poi a mantenerla nel tempo perché essere attivi e vitali è una questione di scelte Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!